Siamo che le dobbiamo giocare tutte se ce le fanno fare ogni partita, io vado partita per partita, non è che vada a vedere dopo quella che c'è dopo del Catanzaro, adesso ci dobbiamo preparare per questa partita, farlo nel migliore dei modi e cercare di sbagliare il meno possibile, poi dopo quell'altra le valutiamo gara per gara. Qui c'è una titolarità che è forte, poi c'è Pane, poi c'è Leone, cioè il discorso non si pone nemmeno e gioca Pane, non è che Pane perché ha fatto una cavolata dobbiamo massacrarlo puntualmente, io non so a che fini, Pane è un portiere che ha sempre dato affidamento, ha sempre fatto bene, non vedo perché dovrebbe fare male, perché ha sbagliato un'uscita, perché ci è costato qualcosa. Se andiamo a vedere già la squadra stava giocando male in quel periodo, perciò tutto sommato ci stava anche di pareggiarla. Silvestri e Enrico onestamente, Silvestri ha fatto tutta la settimana, Enrico sta facendo dei doppi allenamenti anche adesso, per mettersi a posto vediamo un attimino, Silvestri non ha problemi. Enrico sai ci devi andare un attimino, devi dare un'occhiata un pochino più perché è un ragazzo, a volte può darsi non si sappia nemmeno gestire, voglia, finora è sempre un caso, due massimo, poi uno è dello staff e uno è quell'altro, però è una cosa brutta, onestamente è una cosa brutta. Non so fino a quanto potremo andare avanti, onestamente, non lo so e mi auguro di finire questo benedetto campionato, già il fatto che iniziano a dire arriviamo alla fine del giorno è andata, poi ci sono playoff, poi ci sono playoff. Allora, noi prima di prendere De Francesco abbiamo trattato un altro giocatore che si è sistemato ad Arezzo, gli è stato offerto il doppio di quello che percepiva, ci è stato detto che lo volevano 10 squadre B e 27 DC. Allora, se io mi devo far prendere pelle e mele, che a casa mia è un'altra cosa, io non mi faccio prendere, e nemmeno poi dopo quando hanno bisogno gli altri, che noi siamo a posto, o riteniamo di essere a posto, devono telefonare a Tizio Cae Sempronio, fra cui anche a me. Io non sono abituato a dire cazzate, ha chiamato me, gli ho detto parla con il direttore, perché non c'entra niente, qui ormai, fino a gennaio, non viene più nessuno, è venuto un portiere perché giustamente avevamo paura di quello che ha detto prima la signora. Cioè noi siamo limpidi nelle nostre cose, poi se altri discorsi a me non mi interessano, qui conta il gruppo, il gruppo sta facendo bene, lei vada a vedere la media punti dell'Avellino fino adesso, poi se perdiamo domenica non lo so, è chiaro il concetto. Finora l'Avellino ha fatto bene, qui non c'è più fattore campo, fattore fuori, andiamo fuori come una volta, qui conta quello che fai, noi abbiamo sei partite, abbiamo 14 punti, abbiamo fatto discretamente bene, con una squadra rinnovata totalmente, dove nessuno ci dava un euro, perché la verità è questa. Perché iniziando un campionato con 20 giocatori nuovi abbiamo rubacchiato una partita a Biterbo, poi le altre le abbiamo sciupate noi con la Turris, se no si aveva due punti in più, di che si parlava poi? Di fenomeni, noi non siamo fenomeni, noi siamo una squadra, un organico che può competere fino alla fine.